Per alimenti a calorie negative si intendono quegli alimenti che dovrebbero far consumare più energia per digerirli di quanti non ne apportino mangiandoli, ma in realtà sono una grandissima bufala e non esistono alimenti a calorie negative, quindi non pensateci a queste cose perché appunto è di fatto una bufala. E tu lo sapevi?